Ciao a tutti ragazzi, oggi volevo parlarvi del mio ultimo acquisto, questa super telecamera, è una telecamera meravigliosa, bellissima, in HD, ora ve la mostro, vi faccio vedere tutti i pezzi che sono all'interno della scatola. La telecamera è questa, guardate che meraviglia, di un materiale incredibile, super resistente, bellissima anche a livello visivo, è la cosa spettacolare di questa telecamera che oltre a fare video in HD ha colori, ha anche la funzione infrarossi, quindi riprende anche al buio e ha una visuale quasi completa, ovvero ha una rotazione verticale di 90 gradi e orizzontale di 355, ovvero riprende quasi tutto il perimetro, quasi il 100% ed è una cosa incredibile. La telecamera è provvista all'interno della scatola di tutti i pezzi necessari al montaggio, addirittura abbiamo anche gli adesivi con scritto come montarli, se montarli dritti come alla perfezione, quindi è molto molto accurata, non dobbiamo comprare assolutamente nulla perché ci danno anche tasselli, le viti ed è veramente incredibile. Io ho dovuto acquistare questa telecamera per la mia seconda casa, in quanto non ho internet, non ho wifi però ho sempre un po' l'ansia che mi entri qualcuno oppure che qualcuno faccia qualche cavolata nel giardino, quindi grazie a questa sono molto molto più tranquillo. La cosa spettacolare è che la telecamera è anche dotata di un meraviglioso pannello solare, guardate che meraviglia, sottilissimo, ovviamente è incartato alla perfezione e questo è un super super punto in più del prodotto, in quanto dovesse saltare la luce a casa noi siamo tranquilli perché con il pannello solare abbiamo comunque una ricarica, quindi la telecamera continua a funzionare anche se salta la luce. Con sole tre ore di ricarica la luce, questo pannello solare dà una carica aggiuntiva di un giorno alla nostra telecamera, quindi siamo tranquillissimi che se dovessero arrivare ad esempio dei malintenzionati e staccano la corrente, la telecamera continua a riprendere, continua a riprendere in HD, è super mega resistente alle intemperie, quindi alla pioggia, alla neve, al vento, funziona ed è indistruttibile. È una cosa veramente veramente utile e meravigliosa. All'interno della scatola abbiamo anche il manuale cartaceo con tutte le lingue, scritto veramente in maniera molto molto accurata. Abbiamo ovviamente i vari cavetti, abbiamo il QR code dove ci spiega, vedete, come montare e la distanza, è molto molto accurato anche questo e in omaggio ci danno anche una sim. La telecamera ovviamente va con la sim e ci regalano questa che è a 300 megabyte e dura 30 giorni. Ovviamente è una sim di prova, quindi starà poi noi decidere se implementare questa o acquistarne una nostra. Possiamo usare Vodafone, Team 3, Wind, un sacco di operatori, quello che più ci aggrada. È veramente veramente favolosa. In più, se qualche malintenzionato vuole distruggere, vuole portarcela via, sappiate che ha anche un sistema di archiviazione dati cloud, ovvero noi possiamo salvare i nostri dati o su una micro SD che la dobbiamo acquistare e possiamo chiaramente inserirla e visionare poi video successivamente o possiamo salvarli sulle cloud, cosa che probabilmente io farò perché è anche un po' più sicuro, diciamo. In più, tutto questo sistema è visionabile, diciamo così, tramite un'app. L'app si chiama Ubox ed è una figata. È una cosa meravigliosa perché noi tramite questa app, dal telefono, possiamo divertirci, tra virgolette. Possiamo fare zoom, possiamo spostare la telecamera, addirittura possiamo impostare l'opzione che se c'è un movimento ci mandano un segnale. Ricordatevi che va anche infrarosso, quindi anche se di notte si avvicina qualcuno, il nostro cellulare ci manda un segnale che, attenzione, c'è qualcosa o qualcuno nel giardino. E in più, cosa che non tutte le altre telecamere hanno, e io ho acquistato questa anche per questo motivo, abbiamo, vedete qua, abbiamo una cassa, abbiamo un sistema per poter comunicare tramite la telecamera. Quindi possiamo salutare se per caso è un vicino, oppure possiamo intimare l'allontanamento di qualcuno, o semplicemente anche di un animale. A volte arriva un animale, e io che ho questa seconda casa nel bosco senza, come ho detto prima, senza internet, può arrivare una volpe, io non voglio che mi rovini il giardino o un cinghiale, purtroppo, allora lì facciamo un segnale, vai via, può funzionare. Quindi è un ottimo deterrente, per non parlare di eventuali ladri. Quindi è un ottimo, ottimo sistema, un ottimo, lo consiglio veramente a tutti. Io finalmente riuscirò a dormire un po' più di sonni tranquilli, e che dire, veramente, veramente una cosa meravigliosa. Ve la consiglio.